Ben ritrovati e ben ritrovati, giornata proficua perché la Juventus oggi ha sorpassato l'Inter, ormai ha messo le mani su Juan Cabal, terzino sinistro di proprietà del Verona, classe 2001, quindi 23 anni, che soprattutto nella seconda parte dell'ultima stagione ha giocato tante partite e contro la Juve lo ricordò, non vuol dire niente per un errore, in quel famoso ormai 2-2 con Foloruscio e Noslin, credo, in rete per i padroni di casa, ma ormai fortunatamente ho dimenticato la seconda parte dell'ultima stagione, però ricordo perfettamente come fosse Cabal che poi avesse fatto quella lettura sbagliata, che poi aveva portato, se non sbaglio, la pala del 2-2, rete di Rabiot, correggetemi ovviamente se stia dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. E' un giocatore che evidentemente ha catturato pesantemente l'attenzione della Juventus che si impegnerà per circa 11 milioni, che non sono pochi, ma sono anche da contestualizzare al fatto che la Juventus le corsie basse le debba rinforzare. Io due giorni fa avevo detto non sono tranquillo sui terzini. Ecco, due giorni dopo la Juventus sorpassa appunto l'Inter e mette le mani su questo giocatore che dovrà fare un percorso, perché parliamo di uno che ha alle spalle 33 partite in Serie A, che prima giocava nel National. Credo tra l'altro che questo club abbia il diritto a circa il 20% in caso di vendita che si sta per concretizzare quella del Verona. Tra l'altro capiremo anche meglio la formula sul fatto che la Juventus è meno di un passo, ve lo confermo dopo le verifiche effettuate con la redazione del bianconero.com, altrimenti non fare questo video. Sulla formula attendiamo un po' più di chiarezza dalle nostre fonti, ma ciò che conta è che poi questo calciatore arrivi per rinforzare la fascia sinistra. Intanto mi avete chiesto ma com'è possibile? Lui è colombiano, la Juve è già con gli slot chiuso, con Douglas e Azic, per quanto riguarda i calciatori extracomunitari provenienti dall'estero. È presso spiegato perché le operazioni Italia-Italia considerano tutti i calciatori comunitari, quindi non va a occupare slot in quanto è un'operazione appunto Italia-Italia. Devo dire che sono curioso, sono molto curioso poi di vedere quello che questo ragazzo, se verrà completato l'operazione, ma è a meno di un passo, lo ribadisco, farà vedere a Torino, ma credo anche che sia giusto che poi, se vogliamo anche un pochettino rischiando, le società possano cercare di esporsi a dei rischi, perché Cabal oggi riesce a prenderlo. Magari fa un'altra stagione top e ti costa 25 milioni e ti poni l'interrogativo se lo avessi preso prima. Quindi di sicuro parliamo uno che a un certo punto lo raccontavano tutti i cronisti che seguono l'Inter, sembrava che ieri sera dovesse finire da un momento all'altro a rinforzare la squadra di Simone Inzaghi. Invece c'è stato questo sorpasso della Juve perché l'Inter ragionava sugli 8-9 milioni, la Juve attorno agli 11 e quindi, giustamente, il Verona, guardando al suo portafoglio, abbia deciso di dare l'ok a questo trasferimento. che evidentemente la Juventus vuole anche completare nel minor tempo possibile proprio per essere sicura di aver messo le mani su questo giocatore. Non fatemi fare il biografo di Cabal perché credo che, a meno che uno non tifi Verona, sia difficilissimo avere una totale conoscenza del calciatore. mi è sembrato in alcune situazioni perché poi ho fatto il tifo per il Verona affinché si salvasse proprio perché mi piaceva l'idea che dopo una svendita totale ci potesse essere un miracolo. Io stimo molto Marco Baroni perché è stato il primo allenatore con cui mi sono relazionato professionalmente. Marco Baroni che allenava la primavera della Juventus, io che come primo incarico serio avevo proprio quello di seguire la primavera di una Juventus che annoverava tra le sue fila Daniele Rugani, tra gli altri. E quindi ci tenevo che Baroni salvasse il Verona e ora questa bellissima chance alla Lazio secondo me farà bene. Ecco, qualche partita quindi l'ho vista del Verona, un giocatore che è sicuramente a gamba, sicuramente a personalità, in certe situazioni come in quella che poi mi ha portato appunto Rabiot a siglare il 2-2, ecco c'è da migliorare però ribadisco è giusto che si lavori con lungimiranza, è giusto che si possa costruire un po' di prospettiva. Quindi prepariamoci perché se tutto filerà liscio e sembra che tutto fili davvero liscio sarà Cabal il quarto innesso estivo della Juventus dopo Di Gregorio, dopo Douglas Lewis e dopo che è Fran Turam. Detto questo oggi c'è un'altra notizia importante perché è arrivata l'ufficialità, Fabio Miretti ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Ecco, secondo me forse va in direzione a ciò che dicevamo nei giorni scorsi, cioè Miretti può essere il jolly di questa squadra inteso come reparto, il centrocampo, perché se giochi 4-2-3-1 può farti il vice di se riesci ad arrivare a Copp e dopo voglio fare un passaggio perché onestamente soffermarmi sulle parole ai dirigenti in pieno mercato è che questi dirigenti siano da Juventus, è che questi dirigenti siano da Atalanta o di altre società, lascia un po' il tempo che trova ma evidentemente volete delle rassicurazioni e bisogna parlarne un po'. Però Miretti, che è un giocatore che ragiona molto in verticale e che senza palla si sa muovere diligentemente, per me è una situazione interessante, è una situazione molto interessante per la Juve, per Tiago, perché ti può fare appunto il trequartista tipico, se vuoi giocare con il centrocampo a 3 lo sa fare. E il fatto che la Juventus comunque oggi gli abbia fatto questa investitura con il rinnovo va un po' a consolidare il fatto che non sia imminente la partenza e non è detto che andrà in scena in questa sessione, perché io vi avevo già raccontato che tante squadre avranno chiesto Miretti anche a titolo definitivo, ci sono più squadre pronte a rilevare il suo cartellino. E io ho detto Alt, Alt al Monza, Alt al Genoa, Alt ad altre situazioni anche estere, perché credo che sia giusto che, come su tutti gli altri, cioè le effettive già disposizioni vengano valutate. Dati a Gomotta, aperta parentesi, che domani alle 14 parlerà presso la sala conferenze dell'Allianz e poi faremo una bellissima live sul bianconero. Oggi, al proposito, abbiamo avuto Alessio Tacchinardi, non so se l'avete vista, ma... Aneddoti, il giallo di Pavel Nedved, con McManaman, andate a ripescarvi il suo pensiero. Anche su Peruzzi, la famosa finale col Borussia Dortmund, però non vi voglio fare nessun altro spoiler. Per quanto riguarda, invece, Copp, ho sentito anch'io le parole di Percassi, ma è normale che sia un calciatore che non sia in uscita per l'Atalanta. Cioè, l'Atalanta, se vende Copp, lo fa peso d'oro, non è un giocatore in lista di trasferimento. Ciò non deve scoraggiare la Juve, che deve però completare delle cose in uscita. Asule, tra l'altro, oggi nuovamente la gente mi risulta che fosse a Torino, quindi si attendono aggiornamenti, hausen, quindi dobbiamo fare un po' di cose in uscita per cercare poi di arrivare con l'offerta giusta e strappare il sì dell'Atalanta. Quindi vi dico sempre, calma, e lo dimostra proprio anche l'imminente arrivo di Cabal. Questa dirigenza sa lavorare, sa lavorare anche sotto traccia. Come dite voi giovani, sa cucinare. Ecco, se sanno cucinare, allora aspettiamoci un menù di tutto rispetto. Se qualcuno di voi conosce bene questo calciatore, Juan Cabal, mi faccia una descrizione qua sotto. Io ho condiviso con voi un pochettino come l'avevo visto, cioè con una bella falcata, personalità, ma anche con delle situazioni nello stretto da migliorare. Intanto la Juventus ha sorpassato l'Inter. Piaggio nei commenti, se è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, attivate la campagna notifica, lasciate un bel like.